Ciao a tutti ragazzi, siamo qua con una video sponsorizzazione Parto con il presupposto che non mi ha chiesto nulla questo canale per sponsorizzarlo Lo sponsorizzo io perché mi piace come lo stile Vabbè a parte questo vi chiedo di iscrivervi Tanto dovete cliccare solo un bottoncino, io sono già iscritto Iscrivetevi, vi dico che non è un bambino, è una persona a posto, adulta, l'ho sentita su Skype Ha il Game Capture, quindi inizierà delle serie su Xbox, PS3 È molto bravo come video, guardatelo Si vede in HD, questo qua si vede in HD Guardate Spero che non ha commentato, ma tanto verranno dei video commentari Guardate Diciamo che la qualità del canale è molto alta Perché appena inizierà a fare video vedrà come spopolerà questo canale Vabbè, io vi saluto, mi raccomando iscrivetevi Fatelo per lui ma non per me Vabbè, detto questo io vi saluto e iscrivetevi Dai ciao a tutti Ciao a tutti